Dalle prime ore di questa mattina sono riprese le attività di spegnimento dei vasti incendi divampati ieri sul Vesuvio in azione carabinieri della forestale, vigili del fuoco, personale della regione Campania e circa 100 volontari della protezione civile, mentre dall'alto tre canadere e un elicottero operano nelle aree di Ottaviano, tre case Torre del Greco colpite duramente dalle fiamme. Durante la notte sono stati effettuati i presidi fissi nei pressi di ristoranti e abituazioni, evacuate case in particolare nei comuni di Torre del Greco e tre case in via precauzionale. Adesso vedete bianco ma oggi c'era un fumo nerissimo e poi c'erano proprio delle lingue di fuoco che camminavano lungo tutto il bordo e abbiamo veramente, abbiamo avuto paura e abbiamo ancora paura, infatti sono ancora con la tachicardina in corso perché è stata una cosa proprio brutta brutta. C'è una fabbrica di fuoco di artificio e quindi non si sa cosa succede, stati i focolari accesi, se la fabbrica prende fuoco non si sa cosa succede. Ieri un vasto incendio ha distrutto la caserma della guardia forestale di tre case, dismessa da quattro anni. Nello stesso luogo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme raggiungessero una fabbrica di fuochi pirotecnici. La protezione civile regionale ha reso noto il dato comparativo degli incendi in Campania tra il 15 giugno e il 10 luglio del 2016, 158, con quello del 2017, 927. 50 lettere del Parco Nazionale del Vesuvio è andato in fumo con i roghi di ieri, di sicura matrice dolosa secondo gli inquirenti.